In questo video voglio parlarti dei meccanismi di difesa. Cosa sono i meccanismi di difesa? I meccanismi di difesa sono delle strategie, diciamo, che utilizza la nostra parte cosciente per non avere, diciamo, dei problemi con le emozioni. Quindi sono meccanismi di difesa della parte logica. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E veniamo dunque al tema, i meccanismi di difesa. Cosa sono, come si sviluppano e come possiamo gestirli? Allora, perché il meccanismo di difesa può diventare anche un meccanismo di offesa? Nel senso che, faccio un esempio, se tu ogni volta che porti la macchina in centro, prendi la multa, beh, un meccanismo di difesa potrebbe essere quello di chiudere la macchina in garage e non andare più in centro. È ovvio che multa non ne prenderai più, ma non utilizzerai la macchina. E quindi, diciamo, alla fine diventa un meccanismo di offesa nei tuoi confronti. Se un negozio ha sempre subito dei furti, un meccanismo di difesa potrebbe essere quello di chiudere. Ma certo che se chiudi il negozio non ne prendi più furti, però, come dire, tiri giù le tapparelle, è tutto chiuso, non entrano i ladri, ma non entrano neanche più i clienti. Quindi bisogna imparare a difenderci nel modo giusto, ma senza danneggiarci. Perché altrimenti si rischia che il meccanismo di difesa diventi veramente un meccanismo di offesa nei nostri confronti. Quindi, quali sono questi meccanismi di difesa? Beh, sono tantissimi. Gli accenno, li ha studiati Anna Freud, sono la rimozione, la regressione, la formazione reattiva, l'isolamento dell'affetto, l'annullamento retroattivo, l'introiezione, l'identificazione, la proiezione, il rivolgimento contro se stessi, l'inversione del contrario, la sublimazione, l'identificazione con l'aggressione, o la famosa sindrome di Stoccolma, l'altruismo, l'ascetismo, l'intellettualismo, il diniego e l'aggressività passiva. Allora, vediamoli brevemente, tanto per dare un'idea, poi farò dei video più specifici su come utilizzarli. Allora, la rimozione è quello universalmente utilizzato. Quando ho un qualcosa che mi fa soffrire, vado a rimuovere l'emozione. Cioè, ad esempio, che ne so, un bambino che soffre per l'abbandono da parte del padre, rimuove il dolore dell'abbandono e nelle profondità dell'inconscio, e quindi il padre che lo faceva soffrire viene salvaguardato. Però questa emozione rimossa non è che sparisce e si azzera, viene semplicemente rimossa. Poi potrà succedere che si ripresenterà più forte che mai in un'altra situazione, magari da grande, potrà innamorarsi di una persona che gli fa vivere proprio quell'emozione dell'abbandono. La regressione, un'altra modalità, è la persona di fronte a difficoltà esterne o interne, torna a un comportamento, un funzionamento mentale pregresso. Questo succede, ad esempio, a molti bambini che, quando hanno una crisi, piccolini tornano alla fase precedente e magari tornano a fare la pipì a letto. Ma vale anche nelle relazioni sentimentali effettive. Quando, ad esempio, una persona diventa, come dire, viene lasciata da qualcuno, cerca di nuovo di ritornare con l'ex, con la situazione precedente. Poi abbiamo la formazione reattiva. La formazione reattiva è faccio il contrario di quello che ho dentro. Dentro sono disordinato, fuori mi comporto in modo maniacale, preciso. Quindi la parte, la mia parte esterna, è, diciamo, il contrario di quella interna. Abbiamo poi l'isolamento. L'isolamento dell'affetto è l'aspetto affettivo di un'esperienza, viene separato da quello cognitivo e viene dimenticato. Cioè abbiamo due memorie, una memoria cognitiva e una memoria affettiva. L'affetto viene dimenticato, isolo. Soffro perché tizia mi fa, diciamo, mi fa soffrire e io vado a dissociare la sofferenza che mi provoca tizia da tizia stessa. Quindi tizia non mi fa soffrire e io isolo, diciamo, questa esperienza, la isolo, dimentico, diciamo, che c'è una connessione causa-effetto tra una cosa e l'altra. Questo può cadere anche nel ricordo di un'esperienza traumatica. Si elencano freddamente i fatti, i ricordi fatti, ma non ricordo più le emozioni associate ai fatti. E la rimozione invece va da rimuovere tutto, praticamente. Poi abbiamo l'annullamento retroattivo. L'annullamento retroattivo è un tentativo dell'inconscio di cancellare attraverso un gesto, un'azione, un rituale, una rappresentazione disturbante, un senso di colpo, una vergogna. Alla base di tutto questo vi è il pensiero magico, no? Che è un'azione simbolica, agita, può capovolgere o cancellare un pensiero o un'azione compiuti. L'aspetto magico fa parte del pensiero onnipotente che hanno i bambini, spesso è caratterizzato dagli adulti ossessivi compulsivi. Poi abbiamo l'introiezione, una forma per introiettare l'altro. Un genitore soprattutto, ad esempio, viene assimilato come parte integrante della mia struttura psichica. Vengono introiettati, ad esempio, i divieti dei genitori. Quindi non sono più divieti che mi impongono i genitori, ma praticamente diventano divieti autoimposti. Quindi vado a superare questa situazione. E poi c'è l'identificazione, che è una tendenza, diciamo, normale di copiare gli atteggiamenti degli altri per essere come loro, fondamentalmente. Il rispetto all'introiezione rappresenta un livello più evoluto, perché implica alcuni aspetti altrui con i quali ci si identifica, insomma. Poi abbiamo la proiezione. Proietto sugli altri quello che è dentro di me. È un meccanismo tipico della paranoia. Io ce l'ho col mondo e credo che il mondo ce l'abbia con me, fondamentalmente. C'è un altro meccanismo, che è il rivolgimento contro se stessi. Sposto, diciamo, consiste in uno spostare da un oggetto esterno, verso il proprio sé, un affetto o un atteggiamento negativo. Quindi i sentimenti negativi che provo nei confronti di un genitore, ad esempio un bambino, li rivolge contro se stesso. Il rivolgimento del contrario. Una situazione reale e spiacevole la trasforma nella situazione opposta. Quindi, ad esempio, un bambino a livello immaginativo immagina di sconfiggere il padre. La sublimazione è l'energia pulsionale libidica viene canalizzata su qualcos'altro, nell'arte e in altre situazioni. Identificazione con l'aggressione è la sindrome di Stockholm, ma non riesco a sconfiggere l'aggressore e gli bacio le mani, fondamentalmente. Mi identifico nell'aggressore. L'altruismo è il caso in cui un soggetto rinuncia ai propri desideri per gratificare i desideri degli altri. E poi abbiamo l'ascetismo, quindi l'intellettualismo. Mi rifugio in attività intellettuali per eliminare, diciamo, l'ansia e la tensione. Speculazioni filosofiche e religiose degli adolescenti, insomma, è tipico dell'adolescenza questo. Il diniego, dinego la realtà fondamentalmente. La realtà è rinnegata e trasformata, secondo la fantasia, in qualcosa di accettabile. E poi, per finire, abbiamo l'aggressività-passività. Quindi l'individuo affronta i conflitti emotivi, come stress, esprimendo aggressività verso gli altri in modo indiretto o passivo. è metto una maschera, praticamente, in cui c'è una facciata di disponibilità, ma di fatto c'è una resistenza nascosta. Il soggetto esprime il risentimento verso il mondo, diciamo. Ecco, questi sono i meccanismi di difesa principali. Vedremo nei prossimi video come si possono utilizzare nella seduzione. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti. Ciao a tutti.